Un nodo scorsoio con gas ad amante. Andiamo a creare sul dormiente, la parte che va verso il punto di fissaggio, con il nostro corrente, la parte terminale, un primo passaggio intorno al dormiente. Poi costruiamo con la corda che abbiamo, questa, un nodo gas ad amante su questo tratto mobile. Creiamo un primo anello, entriamo con il corrente, giriamo intorno a quello che è il dormiente, rientriamo all'interno dell'anello. Inserriamo il nodo, avendo così creato il nodo gas ad amante scorsoio. Nodo gas ad amante scorsoio.